SOS Aghezzo TV qualche sera fa abbiamo fatto un SOS dal parco Pertini di Aghezzo sottolineando che, benché fosse un parco sicuramente ancora tenuto in buone condizioni ma che necessitava forse di più attenzione anche da parte dell'amministrazione e poi questo bar chiuso da anni che sanciva un po' i bei tempi che fugono di questo parco. Con il passare degli anni purtroppo c'è un po' un'aria così di degrado e di abbandono e uno degli ultimi atti di questa involuzione, di questo declino è la chiusura da tempo di quello che era il bar del parco, anche l'ultima gestione ha lasciato appunto il locale e adesso è chiuso e quindi è un peccato che questo era uno dei punti di riferimento comunque anche di primavera, d'estate, punto di ritrovo. Penso un po', se ne voleva fare un altro un pescaiola Nel famoso parco, quello gigantesco, che doveva essere fatto, che sarà fatto o doveva essere fatto? Speriamo che doveva, doveva fare un bar anche lì per farci cosa per poi fare la fine anche di questo, perché era una struttura abbandonata poi è difficile, oggi è difficile, purtroppo la congiuntura e questa recessione sta veramente provocando problemi, anche questo è un problema perché di fatto qui, specialmente l'estate era pieno di gente e oggi invece non c'è più spazio, non c'è più mercato e logicamente si è costretti a chiudere le serate di tutto Questo è un bar che è del Comune di Aghezzo, che il Comune di Aghezzo dava in gestione credo con un bando Sì, sì Invece insomma purtroppo è tutto chiuso, tutto abbandonato e la cosa sarà ancora più evidente se non sarà dato in gestione anche per l'arrivo della stagione bella Ci vorrebbe qualche imprenditore di assalto che gli va di rischiare però vedi anche qui, questo è un locale soprattutto che vive l'estate non tanto in inverno e nella bella stagione però con tutte le case che ci sono dentro, scusate dentro, vicino l'attività fuori ne puoi far poca perché tu sai benissimo che il giovane vuole la musica si schiamazza, si parla la voce alta e poi qui si creano problemi e quindi di conseguenza non è il luogo adatto per fare questo tipo di attività e quindi non si trova nessuno poi che ci viene perché oggi chi è che porta i soldi e la gente nei locali? I giovani e quindi i giovani sono superanti, giustamente come lavoriamo tutti e poi qui la gente inizia a dire che vuole dormire che ci sono problemi, ci sono schiamazze quindi nessuno si avvicina a una struttura che si avvicina alle case per poter fare un'attività anche esterna C'è stata dopo il nostro SOS una buona notizia perché il comune ha fatto un vero e proprio appello cioè chiede che imprenditori si facciano avanti per aprirci un bar e addirittura un ristorante Sentiamo Si parte dal bar perché è il presidio più significativo che c'è in tutto questo bellissimo parco Pertini che è un polmone verde importantissimo per la città primavera, estate è frequentatissimo e non avere un punto di ristoro è veramente una diminuzione la possibilità che diamo è quella di ampliarsi per far sì che possa diventare anche un ristorante quindi per poterci contare anche come punto di presidio per l'intera zona oltre che riqualificare quello che ormai è come vedete abbastanza fatiscente Infatti la riqualificazione riguarderà anche il parco questo è il secondo punto è la riqualificazione del parco Pertini che ha però tutta un'altra strada qui diciamo noi siamo alla ricerca di imprenditori che vogliano impiantare qui un'attività di tipo pubblico esercizio qualificata in un posto molto bello con tavoli all'aperto oltre che al chiuso quindi diamo anche la possibilità di un ampliamento Ricerca imprenditori anche attraverso un bando come funzionerà? Sì a breve uscirà il bando la vera novità è il fatto che chi comunque vince potrà fare un ampliamento fino a 150 metri quadri e potrà andare a scomputo fino a 250.000 euro dai canoni del comune quindi di fatto l'imprenditore potrà comunque creare una bella attività soprattutto quindi bar e ristorazione perché noi crediamo molto su quello visto che in passato purtroppo il gestore ha dimostrato più volte di non riuscire comunque a sostenere questa attività solo con il bar quindi avere un ristorante in pieno centro di città comunque con un parco del genere secondo noi è un'ottima opportunità quindi ci aspettiamo molti imprenditori che partecipi Tempistiche quali saranno adesso? A breve verrà portata in consiglio comunale e subito dopo partirà il bando quindi penso pochi mesi La sicurezza passa insomma anche da qui? Esatto, noi vogliamo che questo parco continui ad essere frequentato da famiglie abbiamo visto anche stamattina stando qua questa mezz'ora quante passeggini transitano in questo parco famiglie che si fermano e vorremmo dare continuità anche nei periodi dove le giornate sono più corte e mettere questo punto di presidio perché le mamme e le nonne possano venire con i bambini anche nei mesi insomma più freddi più meno frequentati fino a oggi Insomma, siamo contenti che dopo esserci occupati del parco Pertini anche l'amministrazione comunale se ne occupa e speriamo allora che qualcuno si faccia davvero avanti per riaprire almeno il bar e perché no anche un bel ristorante che dentro il parco non ci starebbe male e potrebbe essere il primo passo per rivedere questo parco nei modi gloriosi con cui l'abbiamo conosciuto ci vediamo domani Grazie